Perfetto Alleluia Io per oggi ho chiuso Hearthstone 8 partite con Ciceo Grumble nelle ultime 3 carte Snervante È il problema di un combo deck O il problema di quando hai un mazzo Che comunque si basa su una carta in particolare Io se in un Quando giocavo il Miracle Il Milling Standard Se non vedevo il Curatore o gli Oracoli Non giocavo Al contrario del Milling Wild Dove comunque posso reggere botta per un po' Il Milling Standard no Perché non provo un Mill Warlock con le Gnonferatu Perché ci ho provato Ci potrei riprovare Dovrei giocare Rinolock La morte non mi spaventa Alla fine è in Teatro Legend No Davide Valera nel Mulligan Ecco la differenza tra una vacca e una donna di gran classe Vero? Non è partita la notifica del sub Forse perché non l'hai fatta bene Catello Ricontrolla La morte non mi spaventa E ovviamente non pesca perché sa che sono un Mill Corruzione Sputafengo Io così quasi lo Sputafengo Lo giocherei Farei Coin Sputafengo Cosa gli entra? Campionessa del Sole Accettabile Bomba Oscura Ci prendiamo 4 Dan Per Peppe Eh? Non credo di avere capito Vabbè Comunque è meglio Genoa che Tyrande Sì sì no Quello per carità di Dio Però Stai giocare alla leggenda Che finisce ecco I tuoi minion in mano Se non ero testo portato come deck Sì no È ovvio che se giochi Un Mill Warlock Per forza giochi Agatha Bravo Non penso andrò mai in fatica prima di lui Quindi possiamo fare anche Questo Questo sabato Phoenix Non lo so perché potrei avere degli impegni questo weekend Vi tengo aggiornati tramite Instagram ragazzi Mi fa un piacere che non hai idea Evasione Vilerba Ah la Vilerba Ci prendiamo sti danni in bocca? Sì Saprebbe consigliarmi un mazzo da costruire per iniziare a giocare a Darkstone Mi piacerebbe fosse Hunter Cerca Face Hunter Su internet Trovi 1600 liste Harrison Come va Elemental Mage in questo meta? Abbastanza bene Ciao Tancredi Dice che sono su bottom Nelle partite della notifica Ho anche provato a refreshare Provare di condividere Sì Immune Sì Shadow Step Una prep 6-3 Sì Ciao Distorsione Fatua Che deck è ora? Milrog Ciao Anto E ciao SkyGauler Sì Botto di roba Eccolo qua Catello Grazie per il subscribe Per il terzo mese di fila Bentornati al membro squadrone della morte E benvenuto tra i cavalieri di bronzo Sì Rap Vate me lo marcio Alleati segreti Alleati segreti Penso molto mutante Sette carte in mano Backstab Spezza cristalli Via Gul'dan Via il gigante Via l'extrasa Non mi piace però che non ho ancora pescato un oracolo Ma va bene Tanto prossimo turno giochiamo Valera Via il dardo d'ombra Siri a magic esiste un mille Sì sono i classici mazzi macina Ciao Lore Sì si è nel botto di roba Hellfire Siri si ricorda di me Le chiesi si lasciano a scuola Era una cazzata Ecco ho recuperato 7 materie Adesso senza debiti Bravo Ai Sartigol Bravissimo Sono fiero di te Cosa mi sono perso? Un botto di roba Una carta Possiamo anche giocare Valera Tanto mi entra una sparizione Così ne bruciamo una Che bene o male sti cazzi io direi Anche se ne bruciamo una Lui ha una carta Questo vuol dire che fa 1, 2, 3, 4 Sì abbiamo vinto Anche se bruciamo un zotto La sparizione sti cazzi Facciamo oracolo Oracolo abbiamo vinto Le valera Giusto per liberarci la mano Che non voglio rischiare Di non pescare oracoli Anche se in realtà Abbiamo il mondo Raggiunto il legenda in standard Non ancora Oddio Il moto del dannino Ancora non ho aggiunto No non ho avuto il tempo Piccola Dopo devi arrivare Signore lei ha un pulsante solo per non Specare la sua nobile voce Nel trattinerci usando Le valera Sì esatto Red alert Red alert Shields up Red alert In effetti dannino e sasso potrebbero coincidere No il dannino è il dannino Più candela Sì La morte non mi spaventa Dopo farò una partita con lo sfiga deck Va bene Quando raggiungiamo il rank 15 magari Sì Quello te lo sappiamo O te lo uccidiamo Sì perché ha scudo di vino Il pezzo di merda Non mi deve rompere i coglioni Ciao Robby Visto la grande differenza tra Jane e Valera E beh Gli scrottini della mia classe sono stati fatti oggi Ma devo aspettare fino a domani per scoprire l'esito Ansia Posso immaginare Serious You Ray Gaming Scaricato sul cellulare Cosa ne pensi dei giochi presentati all'E3 Ho fatto un post su Onyxia giochi Che cos'è E io dico di no Comunque sulla mia pagina Facebook Ho fatto una serie di post sull'E3 Se vuoi andartene a leggere Mi farebbe un E lo vuoi comprare un girellone? Basta Puoi provare l'OTK Rogue di Disgaste Toast? Sì l'ho già giocato il Maligos Rogue Già portato in live Ciao Procione Ah ma tu guarda Ciao vecchio mio Poi ci sono io che domani ho l'esame di fisica 1 Ma tanto sti gran cazzi perché 18 e sto Ok Sono al botto di roba? E beh anto Bravo riempiti la mano Reponi for duty Reponi for duty Reponi for duty Che non te li Io non te li Manderei subito via Farei questo Bello Farei questo Farei questo E passerei Così lo costringiamo a usare uno dei level up Nel momento in cui giochi i level up Spariamo Wild Miracle Sì Level up Ste gotonte di luce Non veleno grazie Puntualmente Vabbè meglio veleno che altro Fallo Sì Sì Già non solo io penso che 18 slot mazzi siano pochi Sì Anche io lo penso Nel marcio Evasion Non ho ancora giocato Quindi un dannino ce lo prendiamo Al prossimo giochiamo Valera Mi consiglio un mazzo per lo stregone a parte il warlock Che cosa vuol dire un mazzo per lo stregone a parte il warlock Il warlock è lo stregone E lo stregone è il warlock Ciao Sniper Tony Ciao Eternity Ciao Sniper Tony Perché non hai voluto usare quello che Vabbè Thank you Dovrei studiare per l'esame orale di stato Ma la live del milking non la toglie nessuno Però ripassa poi eh Vai tranquillo Franz House Le valera Così disperato Capisco che vuoi liberarti la mano però Mi piacerebbe ma troppo presto Esatto Capisco che vuoi liberarti la arma Mei coglioni Vabbè Sì lo so Buonasera John Cosa ne pensi del quest warrior E' buono in questo meta Sì Non in versione dispari o pari Quest warrior puro Vuol dire un mazzo per lo sciamano Non chiedere a me per lo sciamano Che è veramente la classe che sa usare meno bene Ciao Ryu Kings Tutto bini grazie Sì E io ne ho un'altra Backstab Alleati segreti Ah Questa la teniamo Ci fa adattivatore per la Vilerba Cosa consiglia per un priest in questo meta? Contro il priest Quello lì con la quest Ho appena fatto le mie prime mille partite vinte Bravo Wesley Tutto questo O mi dai un oracolo Porva i nostri insegnanti Figlio di una puttanaccia Sei Undici Siamo morti? Siamo Stiamo a uno Stiamo a uno Non riuscirò mai a millare così tanto Beh Nessuna cosa Nessuna quello che è Dai eh Serve il passo nell'ombra bro Bravissimo Oh No Sorry bro Ciao Non riuscirò mai a millare così tanto Millò tanto È perché dipendeva tutto dal Se riuscivo a trovare il Il passo nell'ombra nella prima Tornata di pescate Se non lo trovavo morivo You know my name Signore di me ho appena scoperto che l'associazione Per cui dono il sangue mi Mi devi dare una medaglia perché sono donatore assiduo Bravo Franz House Mmm Mmm It's the power of meal The power of meal Questo tanto sarà un freeze Quindi Oggi a che ora finisce? 9 e mezza 10 Yes Grazie Tu sei una certezza Non come Jaina Turno 3 Puntuale O ci sei orrivi Già Già non ti sei stancato di usare sempre lo stesso liquido per la sigletta elettronica? No sono abitudinario Leggo la targhetta dentro l'ascensore Metamorfosi Oh benissimo Mireia la mia prof di chimica ha rimandato due classi Aia Ciao piccolino La giustizia è mia No proveriamo cico Un'altra vila erba Sap Beh Uno con la vita Uno o due Due A uno A due E due sia Che i miei figlioli la aiutino Grazie mamma Murloc Sono dei bravi bambini E io dico che alla fine sta arrivando Si può hittare a Legendal Wild? Sì 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 Solo che siamo a rank 16 Quindi è una strada molto lunga Sputafiamma Trade Va benissimo Frostbolt Per svuotarci la mano Certo Sono marcio fino al midollo Sono marcio fino al midollo Il fatto è che io voglio che lui muoia È una strada lunga ma raggiungibile Sì Ok 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 Sì Già non ho bisogno della vostra luce Per un'altra spedizione di Bosco Tetrio In bocca al lupo hotshot Sì Non è un rino Non voglio rischiare col mio ultimo oracolo E non voglio essere costretto a fare prep sparizione Quindi Piuttosto bate Però minchia sei godurioso Mekardette Grazie per il subscribe Benvenuto a tutti i membri dello squadrone della morte Prego durioso L'oracolo qua Viene l'omillo di due No poi non ho più motore di pesca Ce la passiamo così Va benissimo A che ora finisci oggi? Verso le dieci Va bene Non è un problema Jaina Anzi in realtà mi Mi rincuore e basta Sirio contro uno Sono contro uno sfigadeck in standard Epico Goditela Ho visto alcuni video di The Proul di ieri notte Non volevo dormire per le risate Posso capire Mr.K Dovunque ma non su di me Uh le valera Però turno prossimo Facciamo le valera Sputa fango Sputa fango Via il portale Zekara Grazie per il subscribe Benvenuto a tutti i membri dello squadrone della morte Ok Questo può farci danni faccia Spezza magie Sputa fango Va bene 9 carte Abbiamo il passo Dobbiamo tergiversare Orimorph Poter eroe Non ho giocato nessun segreto Per fortuna Non ancora Le valera Non puoi sfuggire All'ombra della morte Sirio visto che mi sento in vena di cazzate Un po' di malirog Già giocato No per un po' voglio andare avanti di mille Sì Sette carte Chi scarica Ora con la luce fredda Via l'altro cura bot Ma le winning wild contano per l'eroe dorato? Sì certo John ma si può sfuggire dall'ombra della morte? Lei dice di no Io mi fido Poco entusiasmo per le valera Sono molto concentrato in questo momento mamma murloc Backstab Tergiverserei ancora un po' Perché ho la mano piena Via la melma Domani ci sono live No domani no Sì colonna Va benissimo Quante carte hai? 5 Tipo 5 Tipo 5 ne ha Prep Oracolo signore 9 carte Direi che facciamo Guarda Quando vuoi No non mi serve Via sega tronchi A posto Via il melo marcio Ciao Riccardo Sì non può mettere nel deck tracker anche il conto delle carte in mano che non va di contare ogni volta No in realtà io voglio meno aiuti possibile perché così almeno ti prepari nel caso dovessi fare dei tornei Per questo gioco con una UI molto molto elementare 9 carte in mano Via il dardo Via lo sputafiamma Tanto altre magie non ne abbiamo Mo gioca a Geddon Non ha molte alternative Sti cazzi Non è un problema Noi li abbiamo fatti subire Un danno Due danni Tre danni Sì abbiamo vinto comunque La morte giunge silenziosa Perché quattro danni Il quattro li subisce Cinque sei no Sette otto no Ma poi sono nove E muore Quasi finito le carte Quasi finito le carte Quasi finito le carte Ho finito le carte Sei Sette Grazie Per tutto il pesce Arrivederci Ho un grosso archibugio Quasi finito le carte Il flore Quasi finito le carte Quasi finito le carte Quasi finito le carte